Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come. Ilari Blasi finisce nei guai, un ex naufraga ha denunciato un fatto gravissimo, la redazione ci spingeva a litigare Scoppia la polemica. Manca davvero poco alla finale del reality registrato in Honduras, fra meno di una settimana infatti avremo il nome del vincitore di questa sedicesima edizione dello show, che ha fatto piuttosto scalpore . Gli ascolti del programma sono stati infatti alti quest'anno, ma dietro ai grandi numeri di telespettatori e shersi sono nascoste anche tante polemiche, che hanno fatto diminuire parecchio la credibilità del programma televisivo . La trasmissione di Canale 5 infatti ha avuto diversi scivoloni, anche per via della conduttrice stessa, che i fan non si sanno spiegare . In studio sono state diverse frasi fuori contesto, che anticipassero gli eventi della puntata e molte geff, tutto questo ha contribuito ad aumentare i dubbi sulla veridicità dello show di naufraghi Ilari neguai dopo la denuncia di una naufraga.I dubbi di tanti telespettatori del programma sono diventati quasi certezza, anche se la conferma dalle parti interessate non arriverà mai . Anche l'ultima stagione del Grande Fratello Vip ha lasciato perplessi gli italiani, che sono ormai quasi del tutto certi che si tratti di reality che sono in verità architettati e orchestrati . Ad aumentare le prove, oltre alle tante geff che si sono susseguite in studio, come ad esempio quando la conduttrice ha annunciato l'eliminato quando ancora il televoto non era stato chiuso, ha contribuito anche una concorrente in particolare dello show . Stiamo parlando dell'ex naufraga, eliminata ormai da qualche tempo, Lori del Santo, che si sta accanendo non solo su suoi compagni, con cui ha avuto diverse discussioni, ma anche contro lo staff stesso del programma di Canale 5 . Recentemente la donna ha partecipato a Un giorno da pecora, rilasciando un'intervista molto interessante, che avrà sicuramente scaldato gli animi della regia dell'Isola dei famosi . Lori ha infatti confessato. C'è un indirizzamento che porta ad avere più audience ovviamente. Non ti danno consigli per migliorare, ma per deteriorarsi . L'ex naufraga ha così confermato che lo show subisce una grande influenza da parte della regia e dello staff, che cercano di disseminare antipatie tra i concorrenti per aumentare il numero degli ascolti, cosa che effettivamente succede, dopo ogni scandalo o litigata. Negli anni, Lori non è stata l'unica a denunciare questo fatto, lo stesso Geremias Rodriguez ad inizio avventura voleva lasciare perché si sentivo troppo pilotato e non libero di dire ciò che realmente pensava Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie e ci vediamo i prossimi video. Ciao! Ciao! Ciao!